Ora è ufficiale, la gara tra Brindisi e Nocerina si giocherà a porte chiuse domenica pomeriggio allo stadio Franco Fanuzzi. È stato infatti respinto il ricorso presentato al Tar dalla società Bianca Azzurra contro il provvedimento emerso nei giorni scorsi. Dura la presa di posizione da parte dei dirigenti Brindisi ad annunciare la decisione sul ricorso sulla propria pagina Facebook. Il presidente Daniele Arigliano che ha parlato della burocrazia italiana e parlando di un calcio che in questo modo viene ucciso. Discorso più dettagliato e anche duro quello del direttore generale Pierluigi Valentini che lancia un messaggio di unione a tutta la città e alla tifoseria con un monito finale. Vogliono far morire il calcio a Brindisi, dimostriamogli che si sbagliano di grosso. Un momento sicuramente complicato per la società adriatica e anche per la squadra che sarà chiamata a dare continuità dopo la vittoria di Lavello nei due match interni consecutivi contro la Nocerina e contro l'Altamura. Nel match interno contro la squadra campana il tecnico Danucci recupererà il capitano Danna che ha scontato un turno di squalifica. Quindi Rosa praticamente ha disposizione di Ciro Danucci che probabilmente confermerà il 4-3-3 vittorioso in terra lucana contro il Lavello.